Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita. Impara a vivere al di sopra degli eventi. Concentrati sulla persona di Gesù, colui che ha vinto il mondo. Problemi e sofferenze sono il pane quotidiano sulla terra. Solo la vita in Lui può darti la forza di affrontare tutto con coraggio. Quando siedi silenzioso in Sua presenza, Lui illumina di pace il tuo cuore e la tua mente turbata. Ti libera dagli ostacoli terreni, ti solleva al di sopra della tua condizione. Cominci a vedere la vita dalla sua prospettiva. Distingui ciò che è importante da ciò che non lo è. Riposa nella Sua presenza, ti rallegrerai e nessuno potrà toglierti la tua gioia. Puoi approfondire questo tema leggendo il Vangelo di Giovanni, capitolo 16, i versetti 21 e 33. Fede e cultura di Giovanni Zenone, per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.